Avanti un altro! Buonasera! Buonasera! Si presenti? Io? Io sono un umorista. Ecco. Giuseppe Iorio. Ci faccia ridere. Come ho detto io sono umorista. Raccotto balzellette, battute, freddure. Anche se mostriamo l'inverno, magari freddure non va bene. Questa è una freddure. Allora, sentite questo che è fortissima. Allora, stanno due dinosauri. Due dinosauri. Che stanno parlando tra di loro. Due dinosauri. Uno dice all'altro, ma perché sei triste? No, sto pensando alla morte, sai. Ma vabbè, non ti fossilizzare. Come è andata? Sì. Grazie, le facciamo sapere. Può accomodarsi. Sì. Fa sapere voi? Oppure chiamo io? No, ma la chiamiamo noi. Ti accomodi, grazie. Va bene, grazie. Dai. Oh. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Avanti un altro. So che viene appresso a te, Filumet, Filumet. Il signore... Madonna, mi sei costata qua. Buonasera. Buonasera, si presenti. Sono Franco Papalardo, vengo dalla provincia di Lecce. Sono pensionato in pensione e mi diverto a dire battute, differenze, il colmo, per esempio. E fammi incominciare, scusa. E poi siamo finiti. Allora, che differenza passa tra un coniglietto di gomma e un pneumatico? Questo è bello. Che differenza c'è? Nessuna differenza. Perché? Perché sono tutte e due di gomma, tranne il coniglietto. Capita? Non ho mai seguito. Vabbè. Grazie. Può accomodarsi. Le facciamo sapere. No, le faremo sapere. Quest'anno, il 74 provino fa. Faremo sapere, faremo sapere. Mi raccomando, facciamo sapere. Un po' più di educazione. Un po' più di educazione, eh. E che fanno... 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 Una mazzia di scarpe non prendiamo. Anche un altro! Filumet, 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 Sono un uomo e non sono un marromozio. Filumet, 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 filumet... Chi è che... Madonna mia. C'è un uomo. Buonasera. Si presenti? Ehi. Io sono Carla Stracci, ho 23 anni e mezzo, vengo da Bari, e... E sono una ballerina, cioè non so se si vede. Ma... Ho portato il CD, te l'ho dato... Si. A lui. Ho detto la musla. Po' debi. Mi hava di più scussi. Cosa , non... Mary... Ahhhh, Non che cosa un altro� creationale! Io ho ricordalo. Che cosa fai? Chiudere, madonna! Ma cosa ho fatto adesso? Direttore, questa è la morte del cigno! Come sei andata? Pfff! Povera pesca! Che brutta morte! Ved' che sta la raccolta differenziata! Se la metta qualche casonetta! Filume se sconosce par collo, par collesco noccio soltanto per te! Filume, 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 filume! Filume!